tre soldi morire di lavoro di daniele segre come ti sei fatto male questa è la domanda che mi fanno spesso come ti sei fatto male un incidente in moto io dico no un incidente sul lavoro come un incidente sul lavoro come è successo era un cantiere nuovo primo giorno di lavoro la mia prestazione è durata più o meno 10 minuti non di più perché mentre portavo un bidone con dei materiali dentro abbastanza pesanti intorno ai 25 kg sono sprofondata tra le palanche di un ponteggio essendoci sopra un terreno non ho visto questo vuoto e sono caduta mettendo a punto la macchina è partito il carrello e si è tirato i braccio all'interno della macchina bracellandolo a quel punto sono intervenuti colleghi cercando di portare la macchina alla stessa posizione dopo vari tentativi si è portata la macchina a smontarla quel pezzo dove mi aveva diciamo incastrato spingendo quella tavola per tagliare proprio quindi mi sono scappato aveva un nodo un qualcosa anche che non tagliava proprio abbastanza di bene quello disco e ho scappato mano praticamente mi ha rubato è venuto contro circolare così mi hanno tranciato questi qua avevo in mano un cammino nel camminare sulle tegole perché mettere le tavole per camminare si perdeva tempo ho messo un piede messo male si sono rotte le tegole sono caduto sotto a due metri ho rotto il braccio in quel momento ho perso l'equilibrio mi sono girato e sono caduto giù nel vuoto ho fatto un volo insomma di circa cinque sei metri e fortuna ha voluto che sono riuscito a cascare in uno spazio dove c'era il terreno morbido diciamo c'era un terreno soltanto in quel pezzettino lì c'era quel pezzetto di terreno se no dall'altra parte c'era un che andava giù altri cinque sei metri pieno di ferri dall'altra parte c'era l'asfalto con il ciglio di di travertino fortuna ha voluto che sono cascato in quello spazio di terreno insomma mi sono spaccato un braccio spaccato un polso la spalla ho battuto la testa ho avuto un trauma toracico un trauma cranico gli incidenti nell'alta velocità quindi nella nostra tratta a torino milano che sono accaduti gravi ci sono stati anche dei morti nel varare le travi chiaramente che dove passerà poi sopra il treno questo perché è ceduta una spalla e quindi ancora non era ancorata e purtroppo ci ha rimesso la vita qualche operaio ci sono anche stati degli incidenti sotto i fili di alta tensione con i mezzi perché una svista operi delle troppe ore o dalla stanchezza o dallo stress dell'autista con i mezzi parliamo di cambio del movimento terra nel scaricare la terra partendo senza ancora abbassare chiaramente il cassone c'è stato il contatto con dei fili dei cavi elettrici bassi ed è rimasto folgorato stavo caricando del materiale nella cava presso l'autostrada romentino e siamo usciti appunto dal luogo di carico per pulire il cassone e davanti a noi si è fermato questo bilico proprio per pulire anche lui il suo codino dall'asfalto che aveva scaricato e la sfortuna vuole che che lui si sia fermato proprio sotto la i cavi dell'alta tensione per andare a pulire nel frattempo che stava stava andando a pulire i ganci il cassone ha toccato i cavi dell'alta tensione rimanendo fulminato il camion nel giro di pochi attimi ha preso fuoco totalmente non prima in un posto chissà dove proprio una palla di fuoco e poi siamo venuti a sapere perché abbiamo cercato l'autista noi non l'abbiamo visto sul posto anche il mio collega è corso verso il camion per andare a cercare l'autista ma era troppo pericoloso perché per ovvie ragioni partevano delle saette delle botte da questa realtà da questi cavi e niente io ho avvisato i vigili del fuoco si sono perché per arrivare nei cantieri bisogna fare un giro particolare non è che sono sulle statali ho dovuto indicarli intanto il mio collega cercava questa autista abbiamo messo i nostri camion in sicurezza per evitare di essere coinvolto nell'incendio di questo bilico e niente poi abbiamo saputo appunto che l'autista è morto folgorato abbiamo visto trovato il cadavere carbonizzato vicino alle gomme una volta spento il camion dell'autista che io ho fatto anche fatica a riconoscere perché era un ammasso di un po contorto di questo corpo ormai straziato dalle fiamme ci penso sempre ogni notte che passa nella mia vita non dimentico un attimo di quella sera perché è tremendo sento ancora alcune gridi dei miei colleghi di ex miei colleghi che stavano morendo c'era uno in particolare sepolto vicino a me che chiedeva aiuto 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 e io non potevo fare niente per aiutarlo passano circa un dieci minuti e io lo chiamavo Pasquale Pasquale ma lui niente non mi rispondeva e quella è la cosa più brutta che mi rimane e forse faccio fatica faccio fatica a sopportare a vivere con quel momento io ero sul camioncino che facevo retromarcia mio fratello un altro collega smontavano sta segnaletica ma anzi mio fratello era con una bandierina che segnalava il cantiere a 100 metri dal cantiere deviava le macchine sulla sull'altra corsia io facevo retromarcia questo camioncino è stato un ragazzo qua mio collega toglieva la segnaletica me li caricava sul camioncino mi hanno tolto i primi due tre cartelli certo punto vedo sto ragazzo qua che mi fa segno mi grida mi giro visto mio fratello ho visto una sagoma arancione per terra davanti una macchina siamo giunti lì per i primi soccorsi ho visto mio fratello ancora agonizzante quindi l'ho preso in braccio con la collaborazione del degli infermieri del 118 che loro non conoscendomi non attribuivano la mia parentela con l'infortunato ripetevano più volte questo è morto questo è andato questo è eravamo in quattro addirittura c'era il datore di lavoro anche lui giovanissimo tre morti è l'unico l'unico vivo stavo lavorando e questo collega qua era il mio miglior amico cioè era come non vorrei mai raccontare questa cosa qua perché è morto è caduto è morto a 53 anni e ha lasciato due figli e una moglie io l'ho visto accadere l'ho visto volare è l'unica cosa che quando sono dato giù che l'ho visto giù mi ha detto Mino mi giri mano a mano l'hanno trasportato in un elicottero ed è morto mano a mano penso che sia uscito anche sui giornali questa tragedia qua non so se vi ricordate morire di lavoro sì morire di lavoro è una brutta cosa perché uno che esce la mattina saluta la famiglia che esce per andare a lavorare e morire così non è giusto è andato a lavorare a prali per cattivo tempo mi ha telefonato dicendomi che più nevicava faceva un freddo terribile quindi è tornato a casa un ragazzo che viene mandato in trasferta a lavorare in cantieri fuori io presumo che dovrebbe essere regolarmente assunto poi vengo a scoprire invece che il giorno dell'incidente è stato assunto alle 8 del mattino e l'incidente è successo alle 10 è caduto dal cavalletto il datore di lavoro dice che è caduto dal cavalletto però lui non lo ha visto cadere lo ha trovato seduto per terra e c'era tutta una pozza una pozza di sangue come ha fatto chi c'era lì con lui chi l'ha soccorso chi ha visto mio figlio il momento in cui è caduto io purtroppo l'ho visto sul letto dell'ospedale e non mi ha mai più riconosciuta non siamo riusciti totalmente a scoprire quello che è successo perché la gente non ha parlato non ha mai detto la verità però in valle tutti sanno ciò che è capitato perché la gente si sa che mormora le voci girano e anche proprio le persone che c'erano presenti in quel giorno una di esse era il nostro matrimonio un anno prima e siamo venuti a sapere dopo dai vari resoconti delle varie carte così che giuravano in quel momento di non conoscere assolutamente Fausto e anche lì una cosa stranissima un tuo amico che lavora con te cioè gente che è venuta al matrimonio proprio l'anno prima giura di non conoscerti cioè sono piccole cose che ti fanno pensare cioè Fausto era una persona non era un animale da lasciare l'intera così senza soccorso senza niente quando ho visto il corpo di mio fratello non aveva nessuna escoriazione mentre loro dicevano che aveva avuto un incidente in moto e aveva fatto un volo di 20 metri ma uno che fa un volo di 20 metri ha perlomeno delle escoriazioni sul corpo e invece quando ho visto il corpo di Fausto non aveva nessuna escoriazione e allora abbiamo avuto dei sospetti e abbiamo chiesto innanzitutto come era successo varie testimonianze dei colleghi di lavoro che c'erano lì sul posto e non combaciavano perché uno diceva che l'aveva trovato girato in su l'altro girato in giù e neanche l'orario non combaciava Fausto quel giorno secondo noi si trovava vicino una pala meccanica magari era piegato a lavorare o stava trafficando qualcosa sulla strada e il ragazzo che guidava la pala meccanica si è girato col braccio dell'escavatore e l'ha preso in faccia secondo noi molto probabilmente è andata così perché non puoi avere una botta in faccia cadendo da una moto e ritrovarti solo una botta in faccia quella può essere dovuta a una pala meccanica non si ha testimonianze chiare chiare da poter portare da poter portare nel tribunale se non si hanno delle dichiarazioni chiare testimonianze prove quindi si ha rabbia anche per quello ma rabbia anche per come sono andate per i compagni come si sono comportati perché non c'è più rispetto per la vita umana è successo a mio fratello ma succede tutti i giorni anche a altre persone quindi voglio dire spero che questo valga non dico per noi solo ma per altre persone che non possa succedere altre persone o perlomeno che non ci si comporti così c'è una sentenza del tribunale ci sarà un processo ci sono delle persone indagate naturalmente perché comunque quello è un omicidio non si può non segnalare su un tetto trasparente un buco di tre metri per due quindi non è un buchetto poi mio figlio pesava cento chili tre metri per due come c'è ci ha infilato un piede c'è volato dentro per la ditta ho messo a repentaglio la mia vita ma più di una volta perché lavorare in galleria vuol dire andare in calotta mentre ti sta franando addosso ti riempie la schiena le mutande hai terra e ghiaia nelle mutande addirittura ma vai ad alzare le centine perché non frani il lavoro per l'avanzamento vai a mettere le catene saldi le catene che si rompono ti fai un culo un culo enorme non sei mai ripagato bene per quello che fai in quel momento e per quello che comunque tu metti metti a rischio la tua vita metti a rischio la tua vita ogni tanto entra il capo in bocco e dice quanti metri abbiamo fatto fine della trasmissione esce di nuovo torna dopo quattro ore quanti metri abbiamo fatto ma poco gli interessa se avevi la cintura se hai rischiato non hai rischiato se hai caduto una pietra grossa si guardano i metri morire di lavoro di Daniele Segre tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini podcast su tresoldi.rai.it